eccomi 23 26 non ce la posso farcela allora grandi fan delle profezie cristiane e delle apparizioni mariane e di tutte quelle cose lì di cui io mi ritengo dissociata voglio parlare invece di una una come la posso chiamare profezia a cui nessuno se fila più non viene neanche considerata ma nemmeno da facebook che di solito con facebook insomma risaltano fuori anche cose antiche e nascoste ma niente questa non se la caca nessuno e invece dal mio punto di vista seppur io da buona atea convinta e resistente al todos non condivida il fatto che sia stata dettata dall'entità mariana quindi dalla madonna della madonna cristiana ha comunque un tot di profetizzazioni che analizzando la storia in sé si sono poi andate a verificare c'è da fare altri due appunti il primo è che comunque non abbiamo certezze in merito alle date effettive pronunciate dalla profezia se non la parola del vaticano e la cosa mi fa un po ridere quindi anche lì ci sarebbe un attimo da interrogarsi come al solito due pastorelli ci hanno una predilizione per i pastorelli bambini e pastori a prescindere devono essere devono essere devono avere una una predilizione proprio un devono essere i raccomandati d'azienda perché bernadette era una pastorella perché tre di fatima erano pastorelli e e questi due di la salette apparizione mariana della salette che poi mariana lo disse la chiesa recito testualmente ciò che scrisse al papa dell'epoca uno dei due pastorelli massimino il maschio mentre la pastorella un po più grande e femmina si chiamava melanie calvat massimino era più piccolo e scrivendo l'accaduto al papa dell'epoca il fatto successe nel 1846 ma le lettere al papa da parte di massimino e da parte di melanie vennero spedite solamente nel 1851 cinque anni per lavare bene bene la testa a un bambino sono più che sufficienti con tutto ciò massimino scrive e ve lo leggo pari pari il 19 settembre 1846 noi abbiamo visto una bella signora noi non abbiamo detto che quella signora fosse la santa vergine ma abbiamo sempre detto solo che era una bella signora io non so se fosse la santa vergine o un'altra persona ma oggi credo che fosse la santa vergine ecco ciò che quella signora quel giorno mi ha detto se il mio popolo continua ciò che sto per dirti arriverà il più presto se cambia un poco sarà più tardi che già come profezia se va bene viene subito se non va bene viene più tardi in ogni caso ho ciò che arriva la francia premetto che la salette è in francia giusto per premessa doverosa la francia ha corrotto l'universo stiamo parlando del periodo del cinquantennio immediatamente successivo alla rivoluzione francese e un giorno sarà punita la fede si spegnerà in francia un terzo della francia non praticherà più la religione o quasi l'altra parte la praticherà ma non bene in seguito le nazioni si convertiranno e la fede si riaccenderà ovunque questo in seguito è un aggettivo temporale una grande contrada del nord Europa ora protestante si convertirà suppongo che pensassero che l'Inghilterra si sarebbe convertita ma non c'era tripa per gatti e l'Inghilterra non si è convertita e sull'esempio di quella contrada anche le altre nazioni del mondo si convertiranno saranno a occhio e croce 700 anni che l'Europa ha mantenuto sempre le sue religioni in ogni dove non si è convertita non si è convertita nessuno si convertiranno prima che questo accada si verificheranno nella chiesa grandi turbamenti e poco dopo il santo padre il papa sarà perseguitato anche questo non mi pare che nella storia sia mai successo il suo successore sarà un pontefice che nessuno si aspetta anche questo ci è fatto poco dopo giungerà una grande pace è arrivata la prima guerra mondiale ma non durerà a lungo tanto non è neanche arrivata un mostro verrà a turbarla tutto quello che vi dico accadrà nel prossimo secolo e al più tardi negli anni del 2000 e mi ha detto di dirlo qualche tempo dopo mio santo padre la vostra benedizione ad una delle vostre pecore così finisce la letterina di massimino un bambino pastore del 1851 quando scrive la lettera che presumibilmente se va bene gliel'hanno dettata o fatta copiare se va male l'ha direttamente scritta qualcun altro considerando il livello culturale di un pastorello bambino francese del 1840 1850 ma andiamo da Melanie Melanie è molto più calcante fa un letterone che non finisce più perché è pure grafomane anche lei è bambina pastorella degli anni del 1840 e 50 anzi anche un po' prima perché era la più grande quindi presumibilmente era nata nel decennio degli anni 1830 1840 così riporta una parte della sua lettera entrambe le lettere verranno tra l'altro come solito fare dalla dal clero e dalla congrega vaticana verranno messe in un cantuccio come segreti e verranno chiamati i segreti di la di della salette rendendoli pubblici molti 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 anni dopo Melania scrive direttamente in terza persona scrive come se fosse la bella signora stessa che parla ma lei è più convinta nella sua lettera che sia proprio la vergine Maria e non come massimino che invece dichiara da subito non ho mai detto che fosse la vergine Maria ho solo detto che era una bella signora Melania ha scritto una papardella che non finisce più ma in fin di lettera scrive Melania sto per dirti qualcosa che non dirai a nessuno il tempo della collera di Dio è arrivato se quando avrai detto ai popoli quando avrai detto ai popoli premessa sto per dirti qualcosa che non dirai mai a nessuno due righe più avanti se quando avrai detto ai popoli ciò che ho detto adesso e che ti dirò di dire ancora se dopo ciò essi non si convertono non si farà penitenza e non si cessa di lavorare la domenica fondamentale lavorare la domenica non se può e si continua a bestemmiare il santo nome di Dio in una parola se la faccia della terra non cambia Dio si vendicherà perché è buono e caro e ci ama tanto questo lo aggiungo io contro il popolo ingrato e schiavo del demonio il mio figlio sta per mostrare la sua potenza come non si sa Parigi questa città macchiata di ogni sorta di crimini perirà immancabilmente che sappia io Parigi sta ancora dove stava prima Marsiglia sarà distrutta in breve tempo mi sa che i marsigliesi non se ne sono accorti quando queste cose succederanno il disordine sarà completo sulla terra il mondo si abbandonerà alle sue empie passioni il papa sarà perseguitato da ogni parte gli si sparerà addosso e qua qua mi ricorda vagamente l'attentato a Voitilia ma quello è successo 150 anni dopo tendenzialmente può essere ritenuto anche a livello teorico pratico in algebra bulleniana che è l'algebra che studia il calcolo delle probabilità una semplicissima probabilità che nella storia del papato a un papa abbiano provato a spararci ma ammettiamo che questa piccola frasetta qua cacata lì poteva anche dare un senso un'idea profetica aspetta ecco papa sarà perseguitato e gli si sparerà addosso lo si vorrà mettere a morte ma non gli potranno far nulla il vicario di cristo trionferà ancora una volta i sacerdoti i sacerdoti i religiosi e i veri servi del mio figlio saranno perseguitati che sappia io l'unica perseguitazione è stata quella contro gli ebrei che non c'entravano la cippa con il papa e tutto il casato vaticano e molti moriranno per la fede di gesù cristo rien ne va plus anche quello nella storia non c'è regnerà in quel tempo una grande fame e questo pezzettino invece durante la guerra un po' di fame effettivamente c'è stata grazie eravamo in piena prima e poi seconda guerra mondiale grazie al pipero ma beh dopo che saranno avvenute tutte queste cose ne avete tre non è che siano poi chissà quante ma dopo che saranno avvenute tutte queste cose molte persone riconosceranno la mano di dio su di loro e si convertiranno e faranno penitenza dei loro peccati un grande re salirà sul trono e regnerà per alcuni anni ora fatta premessa che tra la prima e la seconda guerra mondiale una vagonata e mezza di re hanno abdicato oppure sono stati esiliati e quindi sono scesi dal trono re nuovi e grandi la storia non ne contempla la religione rifiorirà e si espanderà su tutta la terra non è ancora successo meno male e la fertilità sarà grande il mondo contento di non mancare di nulla ricomincerà con i suoi disordini e abbandonerà di nuovo dio e si darà in braccio alle sue passioni criminali ma eppure boh vi saranno anche dei ministri di dio e delle spose di gesù cristo che si abbandoneranno ai disordini e questa sarà una cosa terribile infine un inferno regnerà sulla terra sarà allora che nascerà l'anticristo qui c'è l'unico pezzetto a cui ho prestato un'attenzione a livello profetico semplicemente perché perché recita così appunto infine un inferno regnerà sulla terra sarà allora che nascerà l'anticristo da una religiosa ma guai ad essa molte persone gli crederanno perché si dirà venuto dal cielo il tempo non è molto lontano non passeranno due volte cinquant'anni quindi mi sono fatto un ragionamento con due calcoli miei personali e ci vuole anche poco perché due volte cinquant'anni sono cent'anni l'apparizione della salette avvenne nel 1846 stando ai dati giuntici gentilmente dal Vaticano indi per cui si può pensare che non passeranno due volte cinquant'anni potrebbe significare qualche anno prima potrebbe significare l'avvento della seconda guerra mondiale dove l'anticristo potrebbe essere collocato nella figura di Adolf Hitler del quale peraltro del quale peraltro la mamma era estremamente religiosa questo è l'unico punto che do che do per buono a livello profetico questi segreti o pseudo tali sono stati cacciati nel dimenticatoio negli ultimi tempi sembrerebbero essere stati ritrovati anche i resti di vecchi abiti di Melanie Calvat Melanie Calvat peraltro aveva fatto una vita tremenda anche lì anche lì Melanie Calvat aveva passato tutta la sua prima infanzia chiedendole l'emosina per le strade la sua fine dell'infanzia e adolescenza come pastorella che fosse riuscita a scrivere una lettera di questa portata perché io vi ho solo detto i pezzi che mi interessava farvi sapere ma c'ha una versione estesa che conta parlando in termini di battute dovessi scriverla adesso al computer penso che superi le 20.000 battute per una bambina nata in una casa poverissima che chiedeva l'elemosina scacciata da mezzo mondo perché sembra che Melanie sia sempre stata anche trattata male come una visionaria non in senso positivo quindi anche con delle turbe psicotiche secondo i diari dell'epoca e si è riuscita a scrivere tutto sto popò di lettera con tutto sto popò di discorso nei minimi dettagli cinque anni dopo io non mi ricordo cosa mi ha detto la mia amica Carrie ieri cosa mi ha detto mia mamma al telefono Vantieri e questa analfabeta si ricordava precisamente parola per parola tutto ciò che gli aveva detto un'apparizione che era stata praticamente un'ora e mezza a chiacchierare per scrivergli tutto sto popò di roba di cinque anni prima e cinque anni dopo in accordo col compare col pastorello che però se ne tira un po' alla larga e non esagera come lei decide di avvisare il Papa con appunto sto popò di trascico beh dicevo negli ultimi tempi e questo mi fa ancora più ridere sembrerebbero essere state ritrovati buttati buttati in un magazzino vaticano a Santa Alfonso Maria di Liguori in Salerno nel magazzino delle reliquie alcune scatole contenenti dei sai che lei aveva indossato quando in età poi adulta Melanie Calvat decise di farsi monaca facendosi monaca la sua vita cambiò nel senso che aveva finalmente da mangiare visto che aveva fatto una vita di stenti ma era già adulta per poi togliere nuovamente l'abito telare e finire i suoi ultimi giorni al paese di Altamura sottomentite spoglie e con un nome che non era il suo dicevo quello che mi fa maggiormente ridere neanche sorridere ridere di questa di tutto questo po' po' di segreti di preveggenze di incontri d'apparizioni mariane o pseudo tali considerate tali intuite tali più che altro e che alla fine di tutta questa storia sembra quasi che lei si volesse rimangiare pure quello che ha detto cambiando persino nome e vivendo in incognito gli ultimi anni della sua vita fino alla morte ma è una delle poche apparizioni mariane che al pari di Lourdes e di Fatima è stata considerata e dichiarata con tanto di timbro accettata dalla Chiesa quindi concretizzata come reale apparizione senza che nessuno si sia fatto due domande su tutta la situazione generale io ora ovviamente ho fatto un riassunto della situazione se cercate soprattutto su Wikipedia senza andare chissà dove io vi stavo leggendo i pezzetti proprio da Wikipedia trovate per esteso tutto l'immane letterone che la signora Melanie Calvat scrisse in età adolescenziale senza uno straccio di primo giorno di scuola al Papa dell'epoca e alla Santa Sede adesso non so neanche se qui si nomini il Papa che c'era all'epoca mi pare di no qui non lo nominano comunque è facile trovare chi fosse il Papa nel 1846 1850 basta andare a vedere la lista dei Papi e vi metto comunque il link di Wikipedia che è intitolato Nostra Signora di La Salette nella spiegazione nel riassuntino iniziale del video in modo che se volete potete andarvi a leggere tutto il letterone gigantesco e nel caso tirare anche le vostre conclusioni in merito le mie conclusioni in merito sono mille mila dubbi non sul fatto che possa essere apparsa un'entità e possa aver detto qualche cosa di mirato su ciò che sarebbe potuto accadere nel futuro un'entità elevata Melanie poteva essere anche medianica seppur avesse delle turbe psicotiche anche perché come ho spiegato mille volte a volte chi è già con degli svalvoli può avere comunque la mente più aperta a vedere determinate cose quindi anche le entità ho anche spiegato più volte che a volte quando un'entità vuole farsi dare fiducia può apparire con le sembianze che preferisce e c'è da dire infine che massimino che invece per quanto fosse povero anche lui non istruito anche lui e quant'altro in effetti lui ha fatto una letterina al papa che era così e lo ritengo più normale dato la situazione generale parte subito con lo zampino avanti dicendo ma noi abbiamo visto una bella signora noi non abbiamo detto che quella signora fosse la santa vergine ma abbiamo sempre detto che era una bella signora quindi il fatto che la lettera di Melanie intanto non sia stata scritta da Melanie io già ci metterei le chiappette sul fuoco oltre che le mani alla Pilato ma non per lavarmele no era Nerone che metteva le mani non era Pilato Pilato le metteva sotto l'acqua era proprio furbo ma in cinque anni prima che si è decisa a scrivere quel po' di roba che Dante scansate gli hanno talmente lavato il cervello che anche ammesso ripeto e non concesso che sia stata una reale apparizione di una qualche entità gli avrà detto quattro parole e tutto il resto della storiella intorno con dieci volte il mio figlio Cristo Gesù quattro volte l'anticristo e quindici volte i servi del mio figlio celeste gliel'hanno tutte aggiunte eh con la pala consideriamo anche che parliamo di quasi duecento anni fa se voi pensate che sui social i social stiamo parlando di web stiamo parlando di internet stiamo parlando della globalizzazione internazionale quando a uno gli svolazza un foglietto per la casa ci sono 892 utenti che come consiglio nei commenti estremamente acculturato e intelligente scrivono chiama il prete e siamo nel 2022 lì erano nel 1840 1846 la cultura loro zero la cultura popolare 15% sto esagerando la potenza del vaticano 99,9% tiriamoci due conti tiriamoci due somme questo video lo metto sia in storia del paranormale che in teologia e mitologia come playlist vorrei tanto conoscere le vostre opinioni in merito ma davvero sia di chi la vede come me e sia anche di dei grandi portatori della voce del loro credo perché vorrei proprio un confronto su questo tipo di faccende su questo tipo di profezie su questo tipo di apparizioni e oltretutto mi piace vedere se con i miei appunti verbali riesco anche a farci ragionare qualcuno ho sforato i 32 minuti quindi Lady Ghost e Lady Sadako non avevano salutato all'inizio stasera ma me ne ero scordate tanto presa dall'enfasi di parlare di la salette perché ammettetelo che non la conoscevate perché sono anni che non se lo caca più nessuno quel santuario quella apparizione eppure all'epoca aveva la stessa importanza di Lourdes e di Fatima ma poi il tutto è caduto nel dimenticatoio vi saluto pure io qua sotto vi lascio il link di Wikipedia se volete approfondire parola per parola bene le letterine dei due pastorelli vi ricordo scritte da due pastori analfabeti del 1840 ci tengo a sottolineare questa piccola parte perché poi se le andate a leggere vedete il perché e vi ricordo che un po' più sotto ci sono invece tre o quattro dei millemila link quelli più conosciuti più famosi più grandi almeno in Italia Amazon Streetlib Ips Mondadori mi pare Feltrinelli ma ce ne sono millemila che tengono in vendita i miei libri siamo al 28 se non riesco entro due giorni a pubblicare il libro il settimo testimonianze di una vita volume 1 andrà a finire ai primi di giugno c'è da dire che se lo pubblico i primi di giugno avete qualcosa da leggere in spiaggia durante le ferie ciao